Si è tenuto nei giorni scorsi il convegno di studi per il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia dal titolo Massa e Carrara nel periodo risorgimentale post-unitario. La manifestazione tenutasi a Massa e poi a Carrara è stata promossa dall'archivio di Stato di Massa e dalla Deputazione di Storia della Patria per le antiche province modenesi, con il patrocinio dell'Accademia dei Belle Arti, la provincia puana e la fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Tra i relatori la professoressa Olga Raffo, direttore dell'archivio di Stato di Massa. Lo scopo di questo convegno è quello di poter celebrare anche noi, sia come archivio di Stato di Massa che come Deputazione di Storia Patria per le antiche province modenesi, sezione di Massa e Carrara, l'Unità d'Italia, il 150esimo anniversario. Quindi l'ha voluto fare sia a Massa che a Carrara, proprio perché, insomma, questo è un sentimento, io penso, di tutti i cittadini italiani, che spero, mi auguro che abbiano apprezzato questo nostro piccolo tentativo, questo piccolo nostro sforzo, dati i tempi che corrono. Avete in programma altri incontri a tema? A tema non lo so, ma come lei sa, io come rappresentante dell'archivio di Stato e il dottor Pelucco come presidente della deputazione, noi praticamente possiamo affrontare tematiche che vanno dall'alto medioevo fino al 1899, quindi non posso dirle a priori cosa farò io come direttore dell'archivio di Stato e che cosa deciderà poi il presidente.